In un anno, il 2020, che resterà nella storia anche per la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria mondiale, i dati sull'esportazione in una regione fortemente orientata all'export, come la Toscana, confermano un quadro sconfortante, con l'eccezione del terzo trimestre, quando, da luglio a settembre, la riduzione temporanea dei contagi ha consentito una ripresa parziale, ma significativa. A illustrare la situazione, il rapporto periodico sui distretti della Toscana è redatto dalla Direzione Studi e Ricerca di Intesa San Paolo. Se da marzo a maggio le esportazioni sono quasi dimezzate, in estate il rimbalzo ha visto riguadagnare posizioni e si evidenziano tre province, Lucca, più 21%, Siena, più 12%, trainate dal settore che è meglio eretto, cioè l'agroalimentare, e Pistoia, che in tre mesi ha visto l'export crescere del 10%. Merito soprattutto del florovivaismo, che ha colto in pieno l'opportunità di una mini-ripresa, con esportazioni che hanno segnato un incremento del 33%, pareggiando il risultato dei primi nove mesi del 2019. In estate di questo rimbalzo ha usufruito anche il mobile di quadrata, con un export cresciuto di oltre il 18%, grazie soprattutto ai mercati di Paesi Bassi e Stati Uniti, nei quali le vendite trimestrali sono quasi raddoppiate, segnali che danno speranza per quando finalmente l'emergenza Covid sarà alle spalle.